Saluto a tutti, oggi andiamo a vedere come lucidare il plexiglass Alcuni di voi mi hanno chiesto sotto i commenti dei video su youtube come lucidare il plexiglass Ecco, vi faccio vedere come recuperare, come lucidare delle parti in plexiglass o vetro sintetico Che è la stessa identica cosa che magari sulle finestre, su determinate cose Anche alcuni acquari tipo coi vetri tonditi all'acquario di Genova Per esempio sono fatti in vetro sintetico, un plexiglass o comunque un materiale plastico trasparente Che non è il policarbonato dei fari delle auto, è un altro tipo di plastica Che viene utilizzato al posto del vetro vero, quindi chiamato vetro sintetico ma è plexiglass Vi faccio vedere come risolvere, se si è ingiallito nel tempo perché lo fa Oppure se è graffiato in maniera molto profonda, molto marcata Andiamo a lavorare Eccolo qua, io ho questo pezzo di plexiglass, vedete Che ho usato per fare determinate cose, però l'ho modificato apposta Tutto rigato, graffiato, vi faccio vedere anche in trasparenza E queste righe che vedete sono molto profonde Guardate, sentite Ok, vi faccio vedere come farlo tornare Bene Ecco qua, questa è sempre la stessa lastra, vedete Lo metto qua, su morbido in modo che non graffi la parte anche inferiore Quindi nel caso in cui sia montato su una finestra lo potete fare da montato La prima cosa da fare è pulire bene la superficie, alcol e panno di microfibra E pulisco bene la superficie, perché nel mio caso è pulita Ma negli altri casi potrebbe essere contaminata o rovinata E quindi, diciamo, è meglio pulirla bene Una volta pulita bene, non serve decontaminare perché i graffi sono talmente profondi Che vado automaticamente a carteggiare Con che cosa comincio? Allora, dipende da quanto è profondo il graffio In questo caso, siccome si sente bene con l'unghia Io partirei con una 400 addirittura Quindi per allisciare tutto quanto Non è come il policarbonato delle auto Il plexiglass è più morbido Quindi è più facile da rigare e più facile anche da lucidare e carteggiare Quindi parto con una 400 Oh, vi do un consiglio Tirate la mano al vetro Perché se fate con un attrezzo Un travano, una rota orbitale, una rotativa Un'altra qualsiasi cosa C'è il rischio che creiate delle abballature Che poi fanno effetti lenti e distorcono la visione Quindi se è una finestra poi dà fastidio O se è qualsiasi altra cosa Comunque poi non ci si vede bene attraverso Cioè se si vede limpido ma distorto Quindi io vado con un supporto a mano A fare questo lavoro A lisciare tutta la superficie Devo vedere che mano a mano che carteggio Le righe e i graffi Oppure il giallo che si forma tante volte sul plexiglass L'opacizzazione sparisce Io non ho un pezzo, diciamo, ingiallito Ma funziona uguale pure sull'ingiallimento Per vedere se sto togliendo i graffi sul plexiglass Potete usare una spia di carteggiatura Tipo questa qua La metto sul vetro sintetico Sul plexiglass Si evidenziano i graffi Quindi so fino a quando devo insistere con la carta E se sto facendo un bel lavoro Perché se vedo che ci metto tanto Scendo di una grana Magari prendo la tre 20 Ecco Guardate vi faccio vedere Vedete i graffi Adesso si sono riempiti Con la spia di carteggiatura Non so se si riesce a vedere Magari anche in trasparenza Si sono riempiti qua in questo punto Con la spia di carteggiatura E quindi Riesco a vederli Fino a che li vedo Vuol dire che devo insistere Vedete Cambio Movimenti Direzione Circolari Non faccio sempre lo stesso Per non scavare la superficie E mi allargo Cioè nel senso Devo creare una superficie piana Perché se no Poi distorce Come vi dicevo prima Ok Non li vedo più i graffi E quindi passo alla grana successiva Prendo la 600 In questo caso io la uso ad acqua Perché ce l'ho Ma assicca la stessa cosa Perfetto Controllo Che Effettivamente stia procedendo Nella direzione corretta È tutto bello Opacizzato Paro Ma non ha più i segni I graffi Le cose strane Quindi non è più trasparente Ovviamente A questo punto Uno potrebbe pensare Oddio non lo riprendo più No tranquilli Vi faccio vedere Che lo riportiamo Brillante Come era prima Dopo la 600 1000 Sempre ad acqua Oramai parto Con le carta d'acqua Stavolta Stavolta mi allargo a tutto il pezzo quasi Se è ingiallito paro lo dovete fare tutto Se ci sono solo dei graffi limitatevi alla parte quella rovinata Non andiamo tanto oltre Ma sempre in piano con un supporto rigido Mi raccomando tenete pulito Perché se ci va a finire qualche sassolino Qualche granello La carta rovinata Impastata Vecchia Vi inficia tutto il lavoro Cioè nel senso Mano a mano che strofinate È graffiato ulteriormente È una superficie molto facile da levigare È molto morbido il plexiglass Ve l'ho detto Non è come il policarbonato O altri tipi di plastiche Ok Dopo La 1000 Senza che controllo oramai Perché sto andando in finitura Passo alla 2000 Perfetto Adesso diciamo che abbiamo due alternative Finita la carteggiatura Poi proseguiamo con le carte 3000, 4000, 6000 e 8000 E poi andiamo a mano Oppure si parte direttamente con la lana Perché vi dicevo che è abbastanza morbido E una lucidatrice Può essere anche rotativa Perché non lascia subirle sul plexiglass Non vi rimane poi tutti quei circoletti Come sulla vernice Quindi io per velocizzare Andrò con la lana e la lucidatrice Una pasta abrasiva Diciamo serve abbastanza potente Non proprio una da sgrosso Ma ecco questa qua per esempio la vai Una due in uno Una pasta che si ha Sia da taglio che da finitura Ne basta una Finisco di lucidarlo E ve lo faccio vedere Ecco lo stesso visuale di prima Vedete? Non distorce Ci si vede bene Tutti gli angolazioni I graffi non ci sono più È ancora un po' sporco Ma lo devo pulire Però diciamo che abbiamo ripreso Anche il plexiglass Senza troppa fatica La lastra è ritornata nuova Ovviamente dovete avere delle piccole accortezze La prima è di non scaldare troppo la superficie Quindi all'inizio partite a secco con a mano Non fa nessun attrito Nessun sfregamento troppo forte Quindi non scalda Ma se utilizzate delle macchine Dei macchinari Cercate di tenere più freddo possibile il vetro Infatti quando avete visto Dopo io sono andato avanti Con le carte Sempre a mano Ma ad acqua Perché? Perché se lo scaldate troppo Il plexiglass Tende a sbiancare Quindi questa è la prima accortezza Secondo la lana Perché ho utilizzato la lana? Perché la lana anche È nota per non scaldare la superficie Infatti la lana per esempio Si usa I tamponi di lana Si usano sulla vernice fresca Cioè nel senso Sulla vernice delle auto Appena verniciate Che non hanno raggiunto L'indurimento completo Perché? Perché non le scalda Non scaldandole Quindi non riammorbidisce Il trasparente o la vernice A lucido di tetto E fa un lavoro diverso Detto questo Insomma poi alla fine Vedete voi che tipo di entità Di danno avete E cercate di risolvere Come vi ho fatto vedere io O con la carteggiatura O se è soltanto Una cosa molto lieve Basta soltanto lucidare Ovviamente con dei tamponi adatti Come vi ho detto prima In lana Per ottenere un risultato perfetto Servono dei buoni abrasivi Ed una buona pasta abrasiva Io le paste abrasive Nei miei video Le avete viste tutte quelle che utilizzo Quindi scegliete quella Che più vi piace E utilizzatela Spero di esservi stato utile Spero che il video vi sia piaciuto Continuate a farmi nei commenti Le vostre richieste Su qualche tutorial in particolare Mettete un bel like Se non l'avete fatto Iscrivetevi al canale Ciao Al prossimo tutorial Segui Flavio Tutto fare È possibile sbagliare Un tutorial per partire E già sai che cosa fare Non restare ad impazzire Vedi come imparare Perché è facile capire Se c'è Flavio Tutto fare Grazie a tutti